dici che sei inerte e mi dici che ti senti strana ma è un atteggiamento tipico da newtoniana e come dissi einstein con intuizione migliore c'è energia nella massa e dentro te c'è amore e tu nascondi passioni ben oltre le tue intenzioni sono desideri oscuri non sono inerzi e tu io l'ho capito guardandoti perché è uguale mc2 adesso abbiamo parlato del contenuto conosciuto e sconosciuto dell'universo quello che non sappiamo e vorrei mostrarvi qualcosa che sicuramente avete già visto e che magari ci introduce nel prossimo passo in questo viaggio che stiamo facendo nel cosmo alle frontiere della conoscenza senza maffiarmi però romilly è una sfera beh ovviamente cosa pensavi fosse solo un buco no è che tutte le immagini che ho visto finora erano nelle immagini cercano di farti vedere come funziona e quindi dicono tu vuoi andare da qui a lì ma è troppo lontano giusto allora un wormhole piega lo spazio così e ti dà una scorciatoia verso una dimensione di ordine superiore ok quindi per dimostrarlo trasformano lo spazio tridimensionale in due dimensioni e in questo modo il wormhole in due dimensioni è un cerchio cosa diventa un cerchio in tre dimensioni una sfera esatto un buco sferico ma chi l'ha messo lì iscriviti al nostro canale il film è bello però professore ci spiega di cosa stavano parlando esattamente poi già che c'è se ci dici qualcosa sulla forma dell'universo, è una sfera un cubo, un lenzuolo quello che sia, la terra sappiamo che è piatta, ma l'universo ancora non sappiamo com'è allora, questo era un estratto del film Interstellar che è un film molto affascinante e anche molto rigoroso da un punto di vista scientifico infatti, uno dei consulenti scientifici che ha contribuito al film è Kip Thorne che è uno degli scopritori delle onde gravitazionali ora, la gravità è, diciamo il motore dell'universo è quella forza che ha fatto sì che l'universo si sia creato che ci dice come si evolve l'universo come si evolvono le stelle dalla loro nascita fino alla loro morte e ci dice anche perché i sistemi planetari sono stabili questo ce lo insegnò Newton nel 1650 la seconda metà dei 600 quando enunciò la teoria della gravitazione universale e questa teoria poi fu applicata per spiegare i moti planetari e successivamente per spiegare l'evoluzione dell'universo bene questa però non è in realtà l'immagine corretta il modo corretto di schematizzare l'universo di modellizzare l'universo in realtà quello che ci ha spiegato esattamente come stanno le cose è stato Albert Einstein quando ha enunciato la teoria della relatività generale la teoria della relatività generale supera il concetto di forza Einstein si poneva un problema fondamentale diceva ma perché quando io ho due corpi e li lascio cadere sulla superficie terrestre questi scendono con la stessa accelerazione e arrivano a terra nello stesso istante quindi se non ci sono gli attriti questo avviene bene qual è il motivo? beh Einstein dice il problema è per certi versi semplice in realtà tutti i corpi si comportano allo stesso modo indipendentemente dal loro peso dalla loro forma perché in realtà quello che conta è il loro percorso nella geometria dello spazio-tempo e siccome il percorso è lo stesso il comportamento è lo stesso e quindi ha immaginato che lo spazio-tempo sia una specie di reticolo che viene curvato quando nelle sue vicinanze viene posto un oggetto con grande massa come per esempio può essere una stella o un pianeta lo spazio-tempo si curva e quindi i corpi seguono la curvatura dello spazio-tempo nel loro moto e quindi siccome lo spazio-tempo è curvato dal sole la terra seguendo la curvatura dello spazio-tempo si muove attorno al sole bene questo è un punto di vista veramente innovativo uno di quei cambi di paradigma che poche volte nella storia della scienza avvengono quando una persona ti dice guarda non è come hai sempre pensato ma devi vedere le cose da questo punto di vista che è completamente diverso e la cosa fantastica è che funziona la curvatura dello spazio-tempo la gravità non solo fa girare i pianeti attorno a una stella ma fa curvare anche la luce e questa proprietà dello spazio-tempo fu confermata sperimentalmente dall'astronomo reale inglese Sir Arthur Eddington che durante un'eclisse di sole riuscì a misurare la deflessione della luce che proveniva da stelle dietro il sole Einstein ha previsto ad esempio che l'orbita di Mercurio ha un'orbita particolare che infatti la teoria di gravitazione universale di Newton non riusciva a spiegare quindi la teoria ha un punto di vista completamente diverso e funziona e questo ci spiega anche il filmato che abbiamo visto fanno vedere come lo spazio-tempo immaginato come un foglio di carta possa essere curvato a seconda delle masse che ci sono vicine e a volte si possa anche immaginare che ci siano delle scorciatoie che ti fanno passare da una parte dell'universo a un'altra ma questa magari è più fantascienza che scienza a questo punto in cui abbiamo sostanzialmente dato un'idea del passo avanti che è stato costituito da Einstein con la teoria della relatività generale forse varrebbe la pena di guardare un cartoon che ci fa un po' riassunto di tutta questa tematica sempre di Luca Ralli che è il nostro illustratore di fiducia abbiamo visto quindi che l'universo è costituito dallo spazio-tempo e questo reticolo spazio-temporale che viene curvato delle masse bene Einstein ha anche previsto che dalle sue equazioni si potessero generare anche delle onde in questo reticolo e che queste onde si potessero propagare nell'universo queste sono le cosiddette onde gravitazionali Einstein scrive un articoletto in cui fa quest'ipotesi nel 1915 e dice guardate le cose funzionano in questo modo e quindi seguendo le mie equazioni in questa approssimazione devono esistere le onde gravitazionali quindi delle increspature dello spazio-tempo che si propagano chi è che genera queste increspature ovviamente delle masse molto grosse perché devono essere in grado di curvare lo spazio-tempo e degli eventi catastrofici quindi che coinvolgono masse molto grosse quali sono gli oggetti più massivi che possono creare questi eventi catastrofici i buchi neri ad esempio un collasso di due buchi neri può creare un evento catastrofico in questo evento con una specie di esplosione l'eco di questa esplosione le onde d'urto di questa esplosione sono le onde gravitazionali e lo stesso si può immaginare con altri oggetti massivi come ad esempio le stelle di neutroni bene questa è un'ipotesi che è stata fatta da Einstein nel 1915 e la cosa bizzarra che è successa è che ovviamente gli scienziati dopo la seconda guerra mondiale quando la tecnologia aveva raggiunto un livello di avanzamento sufficientemente adeguato hanno iniziato a cercare queste onde gravitazionali ovviamente con strumenti grandi prima hanno costruito dei grandi sismografi poi hanno costruito degli altri oggetti di cui parleremo magari un po' più avanti che si chiamano interferometri beh la cosa peculiare è che esattamente cento anni dopo l'articolo di Einstein che postulava l'esistenza delle onde gravitazionali queste onde gravitazionali sono state rivelate per la prima volta da gli esperimenti che erano stati costruiti sono tre esperimenti due esperimenti stanno negli Stati Uniti sono fanno parte della cosiddetta collaborazione LIGO uno sta nello stato di Washington a Hanford e uno sta nello stato della Louisiana a Livingston e poi c'è un terzo strumento un interferometro per le onde gravitazionali che sta in Italia a Cascina nella campagna toscana e questo è uno strumento che è gestito all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare insieme a una collaborazione con francesi e olandesi bene il 14 settembre del 2015 è stata rivelata la prima onda gravitazionale successivamente questi strumenti hanno rivelato molte altre onde gravitazionali prodotte tipicamente dal collasso di due biti neri e poi più recentemente hanno anche visto onde gravitazionali prodotte dal collasso di due stelle di neutroni e quindi è stata effettuata una verifica sperimentale dei risultati ottenuti dopo le verifiche fatte pensate che questa prima rivelazione è stata ottenuta nel primo periodo di presa dati di questi strumenti anzi era un periodo in cui si voleva incalibrare gli strumenti e alla fine del periodo di calibrazione si è visto questo evento e ha detto ma cavolo potrebbe essere un'onda gravitazionale hanno fatto l'analisi e l'hanno trovata fate tutte le verifiche nel gennaio del 2016 c'è stato l'annuncio l'annuncio della scoperta delle onde gravitazionali e successivamente c'è stata l'assegnazione l'anno successivo l'assegnazione del premio Nobel per la fisica per la scoperta delle onde gravitazionali quindi come vedete dopo cent'anni dalla ipotesi di Einstein sono state scoperte onde gravitazionali sarebbe stato un problema se non ci fossero state perché voleva dire che la teoria era sbagliata ma nuovamente abbiamo un'altra riprova che la teoria della relatività generale è una teoria funzionante forse abbiamo anche la riprova che in Toscana abbiamo un gene scientifico molto forte da Galileo va bene all'interferometro di Cascina che si era accennato anche nella precedente conversazione è argomento di dibattito di tutti gli abitanti di Cascina che è noto con piacere che abbiamo ben tre eccellenze di questo tipo una nel Gran Sasso a questo punto un'altra sotto il mare vicino a Catania a mille metri stava dicendo e poi l'interferometro di Cascina quindi siamo messi molto bene e mi permetterei a questo punto una piccola riflessione sulla forza di gravità che è quello che il buon Einstein ci ha trasformato nella sua visione dello spazio come ce l'ha raccontato lei curvo che si piega secondo delle masse la formula di Newton funziona abbastanza bene per descrivere per esempio il motto di un razzo che deve andare sulla luna non sono necessari le equazioni di Einstein bastano quelle di Newton anche se sono approssimate e quindi la gravitazione universale di Newton è ancora una teoria valida che applichiamo nella vita di tutti i giorni di questo siamo lieti caso mai dovessimo salire su un razzo sappiamo che formula usare il bosone e quando ti risveglierai saprai tutte le mie canzoni il bosone e via dice è il bosone di chi? di chi? di chi? Grazie a tutti